ciao Mario io sono il salutatore richiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre ma guarda non so quanti sono quei pochi 4-5 li saluto tutti ciao ciao ti faccio i complimenti ho una sorpresa per te la maniera del salutatore grande Mario Totti ciao ciao